E' dei tonno a paghetta. No, no, no. Ok. Devi scherzare? Vai. Caro Marcello, vedi, siamo i tuoi artigiani. Siamo onorati di essere i tuoi amici, ma di essere soprattutto le persone che lavorano con te a manufattu, per la realizzazione della mostra dell'artigianato, di far parte di un'associazione che è Peninsula, che comunque contribuisce a rendere accessibile a tutti, fruibile a tutti l'artigianato, ma soprattutto volendo muovere tutti i tipi di artigianato. Siamo qui con te a darti forza, a darti il nostro sostegno, ma soprattutto a farti veramente tanti, tanti volumi. Rimedi tutti, tutti quanti, per i tuoi 25 anni di attività. E soprattutto grazie Marcello. Grazie. Grazie.